Dobbiamo fare una testa di cavallo con il metodo estrusione. Prima cosa dobbiamo trovarci un'immagine con la testa di cavallo, la forma della testa di cavallo, grazie. Googliamo su un browser e otteniamo per esempio dell'immagine di libera distribuzione, come questa, FreePick. Questa immagine la possiamo scaricare, quindi SaveImageAs. La scarichiamo in un posto dove possiamo rintracciarlo, ad esempio in Documents. Andiamo poi in Blender. Blender, la scena iniziale è super giù questa, quindi confermiamo, ok, leggermente spostata. Andiamo, apriamo questa col più che c'è qui in alto, oppure con N magari, e vediamo che qui abbiamo la possibilità di specificare un'immagine di sfondo. Dobbiamo selezionarla e poi nell'immagine di sfondo dobbiamo fare Aggiungi immagine. L'immagine, io diciamo, che avverrà su tutte le viste, quindi su tutte le viste si intendono quelle di fronte, alto o laterale, e apriamo l'immagine dal nostro documenti e abbiamo forma della testa di cavallo. Come vedete non si vede, perché per poterla vedere dobbiamo togliere la prospettiva con 5 e il tasto nel numerico e vederla, per esempio, con 7, per vederla dall'alto. Oppure anche uno, per vederla di lato, insomma, frontalmente, perché la vogliamo fare verticale. Questo potrebbe essere interessante. Il cubo che abbiamo. Adesso vogliamo costruire tutti i vertici del cubo in modo tale che seguano la silhouette del cavallo. La cosa per farlo è di andare in modalità modifica, poi, avendo selezionati con AA tutti i vertici, vedete che ci sono 8 vertici, paradossalmente li cancelliamo, X, vertici, perché li vogliamo costruire uno per ciascuno usando la tecnica CTRL-CLICK sinistro del mouse. Quindi, cosa facciamo per fare ciò? Dobbiamo sostanzialmente andare in un punto, partiamo, per esempio, dall'orecchio e facciamo CTRL-CLICK per posare il primo punto. Poi andiamo, gradatamente, a mettere tutti gli altri punti premendo ogni volta CTRL-CLICK. facendo così seguiamo tutto il contorno del cavallo cercando di non mettere troppi punti ma nemmeno troppi pochi quindi più l'oggetto tende a incurvarsi e più noi metteremo ecco qui magari vogliamo mettere un punto le frecce ce le impediscono quindi clicchiamo qua e poi andiamo a cercare di mettere gli altri punti ok questa procedura può essere fatta a precisa piacere adesso io per il video la farò un pochino in velocità ma come vedete non è difficile equivale a ritagliare sostanzialmente come se avessimo una forma una specie di forbice e ricordiamoci che dobbiamo seguire tutta tutta la struttura del nostro cavallo ok ci siamo quasi quando arriviamo all'ultimo vertice con SHIFT selezioniamo il primo e tasto destro poi facciamo un F per unire questi due vertici poi se vogliamo sistemare i vertici A deselezioniamo e poi eventualmente correggiamo seleziamo un vertice G e ci spostiamo il vertice in modo tale da seguire le cose se vediamo che ci sono dei pezzi che non ci soddisfano tipo qua che non segue la curva possiamo selezionare con SHIFT il secondo vertice 1 e 2 V suddividi e avere un vertice aggiungivo aggiuntivo che possiamo selezionare e poi spostare questo ve lo faccio vedere solo come esempio no? ok una volta che abbiamo selezionato tutti i vertici che vedete che abbiamo 40 vertici che possono essere troppi o troppo pochi comunque adesso supponiamo che vadano bene quindi vuol dire che poi la struttura sarà dato da 40 per 2 80 80 vertici possiamo provare a selezionare tutti i vertici e fare F F perfillare e quindi con Alt vedete che abbiamo ottenuto sostanzialmente il profilo che ci interessava ora questo profilo dobbiamo estruderlo quindi per estruderlo facciamo avendo selezionato tutto tutti i vertici facciamo E facendo E vedete che possiamo poi spostare il mouse e ottenere l'estrusione e quindi abbiamo un oggetto tridimensionale ottenuto da una figura piana ok quindi questo diventa il nostro cavallo allora il nostro cavallo è già fatto è già pronto in realtà nel senso che se andiamo così ce l'abbiamo e possiamo applicare la solita struttura che abbiamo ormai imparato di metterci il materiale che vuol dire sostanzialmente metterci il colore quindi andiamo sul diffuso e possiamo farlo nel colore desiderato quindi per esempio una specie di marroncino marroncino scuro e qui abbiamo il nostro cavallo ecco ctrl z ok una cosa che è interessante da vedere ho fatto un ctrl z di troppo allora facciamo ctrl shift z ecco se notate con alt lo possiamo vedere vedete che c'è questo pallino questo pallino non è centrato sul cavallo perché? perché siamo partiti a fare il cavallo lungo la silhouette e poi l'abbiamo estruso ora per poter poi controllare bene come lo collochiamo tipo con la calamita è conveniente che questo puntino compaia al centro del cavallo sostanzialmente quindi c'è un'opzione che permette quando siamo in modalità oggetto di credo che sia questo no dunque snap non lo trovo qua relazione animazione ecco è l'origine sostanzialmente quello che ci interessa quindi possiamo fare se non troviamo il nostro la nostra funzione possiamo sempre premere barra speziatrice e cercare origine no e quello che ci interessa è impostare l'origine l'origine è sostanzialmente quel pallino quel puntino che dovrebbe comparire al centro del cavallo quindi se noi facciamo origine alla geometria vedete che si è spostato effettivamente il pallino ed è andato esattamente al centro del cavallo quindi questo diventa interessante per avere l'origine diciamo abbastanza centrata sul cavallo poi un'altra cosa che ho citato è la capacità di guardare le normali le normali sono sostanzialmente delle frecce dei segmenti che escono da tutte le facce e se l'oggetto è ben fatto tutte le normali devono uscire fuori dall'oggetto verso dove stiamo guardando se per caso vedremo che le normali invece non escono dalle facce vuol dire che abbiamo un problema di normali allora come facciamo a vedere le normali andiamo in modalità oggetto anzi andiamo in modalità modifica e poi da qua andiamo a vedere qui vedete sotto visualizzazione mesh vicino a immagini sfondo dove abbiamo visto prima che c'è una normale dentro e noi vedremo le normali sulle facce vedete che clicchiamo sulla faccia e poi le dimensioni delle normali cerchiamo di ampliarla e vedete che escono sostanzialmente da ogni faccia del nostro cavallo escono dei segmenti azzurri ora questi segmenti azzurri ipoteticamente devono sempre uscire perpendicolari fuori dalla nostra faccia se come in questo caso lo fanno vuol dire che le normali sono a posto se invece non lo facessero le normali sono sbagliate cosa vuol dire una normale sbagliata vuol dire sostanzialmente che se questa normale invece di uscire dal cavallo e venire verso di noi andasse verso l'interno tutta questa faccia la vedremo come se fosse trasparente da questa parte quindi diventa una cosa completamente innaturale e sostanzialmente un errore allora come si fanno ad aggiustare le normali allora deselezioniamo tutto se noi volessimo fare avere delle normali diciamo ricalcolate in ufficio esiste una possibilità di ricalcolo delle normali ad esempio qua possiamo selezionare tutte le facce e poi fare ricalcolo a normali e tendenzialmente Blender cerca di ricalcolare tutti i segmenti questi blu in modo tale che vadano verso l'esterno e siano corretti ma se noi sappiamo che solo uno di questi oggetti è sbagliato ad esempio supponiamo di avere selezioniamo una faccia vedete che clicco qua seleziono questa faccia e poi inverto la direzione della normale di questa faccia ecco in questo caso in realtà si vedrebbe che c'è qualcosa di strano perché se faccio F12 quella faccia compare nera sostanzialmente in realtà non è che si veda benissimo ma comunque sostanzialmente non riflette la luce oppure anche nella visualizzazione vedete che adesso non è più marrone come mi aspettavo ma appunto assume questa colorazione nera per accorgermi effettivamente che le normali sono sbagliate devo fare questo mestiere che vi ho insegnato in cui si abilitano le normali e poi si cerca di allungare le normali vedete che allungando le normali non esce nessuna freccia blu da questa faccia quindi questa faccia è sbagliata allora io cosa faccio la seleziono solo la faccia e poi qua gli faccio inverti direzione facendo inverti direzione vedete che appare una freccina e quindi questa freccina è stata corretta a questo punto posso anche togliere la visualizzazione delle normali e sono sicuro che il mio cavallo è corretto ora detto questo poi questo cavallo dovrà essere ridotto eccetera eccetera per essere messo sulla scacchiera ma sostanzialmente abbiamo visto in questo video come importare un'immagine e metterla dentro l'immagine di sfondo l'abbiamo messo l'abbiamo messo in tutte le viste l'abbiamo visto che bisognava vederlo nella modalità ortogonale e magari uno vedete o tre vedete che si vede l'immagine di sotto sfondo poi su questa immagine abbiamo fatto quella tecnica control click che tra l'altro è un modo per estrudere abbiamo fatto tutti i punti vertici notare che siamo partiti da un cubo abbiamo eliminato tutti i vertici del cubo e poi abbiamo in modalità modifica abbiamo inserito pian pianino con control click tutti i verticini quando abbiamo finito con control click abbiamo fatto tutti i vertici il primo e l'ultimo vertice l'abbiamo unificato con F avendoli selezionati e poi abbiamo selezionato tutti i vertici e li abbiamo fillati in maniera tale da avere un'unica faccia e infine poi di tutte queste facce abbiamo fatto un'estrusione quindi abbiamo fatto il comando E e abbiamo mosso il mouse in modo tale da dare gli spessore che è poi quello che abbiamo visto poi abbiamo visto in questo video come controllare le normali le normali devono uscire tutte dall'oggetto e devono essere viste sostanzialmente visualizzazione mesh come delle piccoli segmenti che escono verso l'esterno in modo tale che uscendo dall'esterno tutte le immagini cioè tutta la colorazione si vedrà solo nella direzione in cui esce il segmentino cioè la freccina a questo punto siete liberi di fare quello che volete di questo oggetto oppure di prendere qualunque altro elemento e di metterlo sulla scacchiera ah ecco una cosa ancora in modalità oggetto accertatevi di avere la posizione centrale cioè l'origine di questo cavallo esattamente in un punto comodo l'origine è quello che vi viene allineato dalla calamita e generalmente l'origine di un oggetto sta nel centro geometrico di un oggetto in alcuni casi può essere conveniente avere l'origine messa per esempio su una faccia quindi potrebbe essere conveniente mettere selezionare una faccia togliamo le freccine delle normali selezioniamo questa faccia e poi volendo possiamo fare in modo tale di mettere vediamo se ce la facciamo snap a cursore al selezionato vediamo un po' se funziona ecco il cursore è interessante perché così possiamo ecco vedete che il cursore è stato piazzato al centro della faccia e questa è una tecnica che permette di avendo selezionato una posizione specifica del nostro cavallo di dire che l'origine la voglio proprio lì quindi possiamo andare in modalità oggetto e poi abbiamo detto origin origine quindi imposta origine e possiamo dire origine al cursore 3D questo è interessante perché vedete che il pallino è passato esattamente in questa posizione questo può essere interessante perché poi quando useremo una calamita la calamita cercherà di allineare questo elemento alla scacchiera questo credo che per gli scanchi e per il cavallo o per altre cose sia parecchio vedremo poi nelle prossime video invece come fare degli oggetti low poly fatti non con gli scacchi ma con degli elementi tipo alberi grazie a tutti buonasera grazie